I carabinieri della Compagnia dell'Aquila, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e dei fenomeni illegali legati alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, hanno denunciato in totale 8 persone, di cui 2 per guida è stato di ebrezza, 1 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 3 per furto aggravato in abitazione e 2 per rapina e tentata estorsione in concorso. I reati più gravi sono stati commessi da un 31enne rumeno, che all'esito di accurate indagini eseguite mediante l'acquisizione di filmati ed ascoltando testimoni, è stato riconosciuto responsabile del furto in abitazione ai danni di una donna di Montereale ma residente all'Aquila, mentre lo stesso reato è stato portato a termine da un 39enne e un 37enne ai danni di una vedova ultra-tontenne aquilana, commesso approfittando del fatto che i due lavoravano presso l'abitazione della donna, quali addetti alle pulizie. Parte del bottino, un orologio del valore di 700 euro, è stato recuperato, mentre della restante rifurtiva, composta per lo più da argenteria, ne è stata riscontrata la vendita ad un'orreficeria locale, per un corrispettivo pari a 2.000 euro. Un 31enne e un 36enne, invece, sono stati denunciati a piede libero perché ritenuti responsabili in concorso tra loro di rapina e tentata estorsione, ai danni di un giovane di origine marocchine. Le indagini hanno evidenziato come i due, dopo aver preso con atteggiamenti minacciosi e violenti il telefonino cellulare della vittima e pochi euro, la contattavano subordinando la restituzione del cellulare alla fornitura di collaborazione nelle loro attività di spaccio di sostanze stupefacenti.